l'ha fatta tutta ora sto meglio eh non per nulla ma è bene che sia chiaro questi tre metri architettivamente belli e importanti per chi non li conosce andiamo a fare questo tratto tecnico via questa è che la faccio un piralla ciao sì vi bello va bene ciao Sì, guarda un po' se ti sei portato. 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 Sì, guarda. Guarda un po' se ti sei portato. Sì, guarda. Sì, guarda un po' se ti sei portato. Sì, guarda un po' se ti sei portato. Guarda un po' se ti sei portato. Guarda un po' se ti sei portato. Sì, guarda un po' se ti sei portato. 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 Grazie a tutti.